l'unica cosa che non dovessero fare ed è fatta ed eccolo il nostro futuro parco divertimento ok bomba bomba ok perfetto stop guarda come rito che si passa è ufficiale sulla moto dai che è schifo ed eccolo il nostro futuro parco divertimenti qua ci vorremmo fare la parabolica il moto vi assicuro che casca di qua ci facciamo degli altri salti qua c'è un altro percorsino vedi dopo un giorno tutto questo sarà tuo il cazzo ti arresto improvabile ok ah che male volevo inquadrarvi ma ho già montato la pala dimmi che questo e non quella no ok 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 guarda 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 cos'è? sono le due venti e noi continuiamo a girare una nuova una nuova una nuova oh cazzo l'unica cosa che non dovrebbe fare è la faccia il cane si è aperta come si è aperta? si è aperta ahiaiaiaia adesso ahiaiaiaiaia ho la frizione a p***a tiralo su tiralo su di me ahiaiaiaia figa t'ho detto fallo dall'altra parte nooo ahiaiaiaia cane ah hai ragione non so fa il commento eh guarda inquadralo e poi vedi da solo il commento come si torna a casa io ti ho detto fallo a destra non a sinistra hai preferito la gloria agli amici ahahah fatti qua fino a tardi esatto ora possiamo tornare a casa ahah che bello allora praticamente sei proprio segata grazie a tutti